Buongiorno a tutti per i amici di Swim Biz, siamo qui ad Ostia con Nicolo Zietto, difensore della Nazionale Azzurra. Allora, è un mese da questo mondiale storico per voi, che ricordi hai di questa esperienza di Shanghai? Si, è passato un mese ci fanno state celebrazioni, targhe, saluti, premi per tutti quanti e adesso ovviamente è iniziata la stagione agonistica. Inizia la stagione con buoni proposi, sicuramente abbiamo una stagione intensa con l'Olimpiade ad agosto, però abbiamo anche tappe importanti. L'Olimpiade in un solo, c'è anche un europeo? Abbiamo anche un europeo in mezzo a gennaio. Come si prepara generalmente una stagione del genere? Una stagione del genere penso sia molto difficile per il nostro staff prepararla perché ovviamente avendo molti impegni su vari fronti, sono su fronte club, che è su quello nazionale, quindi bisognerà gestire bene il gruppo, le forze e tutto quanto. Senti, che effetto va fatto questa notorietà che è arrivata proprio dal mondiale? Siamo ragazzi normali, quindi non è che abbiamo avuto così tanto, sì, magari qualche intervista, qualche riconoscimento fa sempre piacere averne. Benvengano se magari ne arriveranno altri in futuro, però noi rimaniamo sempre sul pezzo, sempre concentrati e non ci mettiamo la testa perché sappiamo che il nostro obiettivo, il futuro, sarà molto importante. Senti, proprio in vista di questo 2012 importante, quanto può essere utile il campionato per voi? Quanto vi può preparare per tutto quello che dovete affrontare dopo? Il campionato di quest'anno è un campionato difficile perché ci sono squadre che si sono attrezzate molto bene, quindi sarà molto dura, bisognerà prepararsi bene, e la nazionale, il nostro allenatore dovrà parlare con i colleghi di club per mettersi d'accordo e per una giusta preparazione da fare durante la stagione. Senti, per te questo è un po' come ritorno a casa? Romano, venuto fuori dall'ambiente romano fino alla nazionale? Sì sì, Ostia, ormai è la nostra casa perché ci siamo praticamente due anni che siamo qui quasi sempre praticamente quando andiamo in collegiale e quindi sentiamo che questa è la nostra casa. Senti, tifoso della Roma? Inizio della stagione? Tifoso della Roma sì, inizio, diciamo, arranchiamo per adesso, però siccome bisogna dare fiducia al nuovo mister, con dei nuovi giocatori, quindi ti senti di essere ottimista comunque? Dobbiamo crederci per forza, questo sì. Ringraziando Nicolo Gitto per la disponibilità. Grazie a voi. Saluto tutti gli amici di ScumBiz, alla prossima. Ciao.